L'adienza a porte chiuse per il processo per i cosiddetti veleni di bussi, la discarica alle porte di Pescara che avrebbe inquinato le falde acquifere della zona, 700.000, lo ricordiamo, sarebbero le persone coinvolte. Bene, 19 sono gli imputati, quasi ex amministratori e vertici della Montedi, sono accusati tra l'altro di inquinamento delle acque. Sentiamo ora Emanuela Scamosci, dirigente del laboratorio chimico dell'Arta di Pescara, e Augusto De Sanctis del forum abruzzese Movimento per l'acqua, intervistati dal nostro Matteo Parlato. Queste sostanze trovate le potremmo definire scarti di lavorazione, ma che natura hanno? Sono sostanze chimiche, prodotti di sintesi, quindi sicuramente prodotti di origine industriale, c'è tutta una serie di normative anche a livello europeo, una catalogazione, una classificazione europea che prevede per la maggior parte di tutte le sostanze che sono state rilevate, sicuramente, delle caratteristiche di pericolo e una classe di pericolosità. Quanto vivono queste sostanze? In quanto tempo decadono, smettono di essere pericolose? Queste sostanze hanno dei tempi di degradazione che possono variare a seconda del contesto in cui si ritrovano, esposizione alla luce, elevate temperature, presenza di batteri o anche presenza di altre sostanze che innescano reazioni chimiche di degradazione. I tempi però comunque in ogni caso sono lunghi, parliamo comunque di anni e più, sicuramente non si parla di ore o di giorni, settimane, si parla di anni, molti anni. I gestori dell'acqua non avrebbero dovuto controllare l'acqua molto spesso per evitare problemi del genere? In realtà a volte non cercavano gli inquinanti, quindi non li trovavano. Poi quando li hanno cercati con l'ASL hanno sottovalutato il rischio, tanto è vero che i vertici dell'acquedotto e il medico responsabile attualmente sono indagati per aver contribuito a distribuire acqua contaminata ai cittadini della Val Pescara. Pescavano acqua in uno stabilimento che per oltre cent'anni ha prodotto dalle perite all'acqua ossigenata e non cercavano inquinanti chimici? Praticamente è così, sembrerà incredibile. Noi l'abbiamo scoperto nel 2007, l'abbiamo denunciato noi. Abbiamo fatto nostre analisi private, poi facendo gli accessi agli atti abbiamo scoperto che gli enti sapevano almeno dal 2004, ma hanno taciuto ai cittadini tutti i referti, le analisi e anche delle relazioni molto preoccupate già appunto nel 2004. Adesso l'acquedotto attinge da pozzi che si trovano a monte dello stabilimento e della discarica. Prima erano a valle e quindi ora l'acqua è potabile. Sì, l'acqua viene presa a monte dell'area inquinata, c'è però un'altra preoccupazione, quella che il fiume Pescara sta continuando a portare a valle gli inquinanti presenti nel sito di bussi e noi siamo preoccupati anche per altre forme di esposizione per i cittadini attraverso per esempio la catena alimentare. Basti pensare che nell'ultima alluvione del fiume Pescara del 2013, in sei giorni il fiume Pescara ha portato al mare Adriatico più di una tonnellata di esacloretano, una sostanza pericolosissima.